Benvenuti a questo breve corso sui segnali in cui parleremo di tipologia di segnali, grandezze, caratteristiche e rappresentazioni nel dominio del tempo e della frequenza. Questa dispensa può essere scaricata dal mio sito marcocecconi.it. In particolare iniziamo a parlare di la differenza tra segnali, prima di tutto la definizione di segnali, poi differenza tra segnali continui e discreti nel dominio del tempo, poi parliamo anche di segnali periodici e aperiodici sempre nel dominio del tempo e infine cosa significa andare nel dominio della frequenza. Quindi prima di tutto vediamo che cos'è un segnale. Un segnale è una grandezza fisica a cui è associata un'informazione e in generale un segnale nella vita comune è per esempio un simbolo a cui è associata un'informazione, per esempio un segnale stradale. Nel mondo elettronico, elettrico-elettronico, il segnale è una grandezza elettrica a cui è associata questa informazione e in particolare la grandezza principale è sicuramente la tensione, anche se esistono anche segnali in corrente. È più utile avere segnali in tensione perché la tensione è la causa della corrente, quindi è molto meglio lavorare con la causa piuttosto che con l'effetto. Tra l'altro la corrente scorrendo sui conduttori per effetto Joule tende anche a scaldarli e quindi a dissipare energia, per cui è molto più conveniente avere dei segnali in tensione piuttosto che in corrente, però in qualche caso si possono usare. Cosa significa essere nel dominio del tempo? Dominio del tempo significa che noi rappresentiamo questi segnali, come si vede qua giù, con la variabile indipendente tempo, cioè sulle ascisse c'è il tempo. Quindi è sostanzialmente quello che noi raffiguriamo dei segnali è quella che si chiama forma d'onda, cioè la forma del segnale che si evolve nel tempo. Qual è invece cosa c'è nelle ordinate? Beh, se noi stiamo parlando di segnali in tensione ci sarà la tensione, se stessimo parlando di segnali in corrente ci sarebbe stata la corrente, quindi c'è la grandezza, questa grandezza fisica qui, cioè la grandezza a cui è associata l'informazione. Attenzione quando grafichiamo i segnali, perché per essere un grafico valido, innanzitutto gli assi cartesiani devono avere l'unità, cioè devono avere la grandezza che è espressa sull'asse, quindi in questo caso la t di tempo. Se poi ci mettiamo anche l'unità di misura, per esempio secondi, è ancora meglio. Qui abbiamo la tensione e ci potremmo mettere tra parentesi quadri volt. Perché questo a destra non va bene, perché è vero che sugli assi cartesiani sono corretti, ma attenzione, questa è l'evoluzione nel tempo del segnale. Arrivato a un tempo, per esempio t0, anzi t1, che cosa succede a questo segnale? Torna indietro nel tempo. Eh, qui abbiamo un altro t che è minore di t1. Quindi, a meno che non abbiamo inventato la macchina del tempo, è impossibile che un grafico torni a sinistra e poi arriva da destra. Quindi, attenzione, quando si disegna i segnali, i segnali devono procedere sempre verso una direzione, che è la direzione di destra, almeno fino a quando non riusciamo a trovare il modo di avere una macchina del tempo. Allora, dalla forma d'onda, quindi se noi analizziamo la forma sull'asse dei tempi, possiamo distinguere i segnali in due tipi. Segnali continui, chiamati anche analogici, o segnali, lo anticipo, discreti, chiamati anche segnali digitali. Allora, vediamo prima i segnali continui. I segnali continui si contraddistinguono dal fatto che possono assumere tutti i valori in un certo intervallo. Che significa? Prima di tutto, vediamo che significa un intervallo. Beh, allora, l'intervallo intendiamo sia un intervallo di tempo che un intervallo di tensione. Cioè, questa tensione è limitata, perché un segnale, nessun segnale reale potrebbe mai arrivare a una tensione infinita, cioè salire fino all'infinito. È una cosa irrealistica. Quindi, nella realtà, c'è sempre un limite di tensione superiore e inferiore. Inoltre, il segnale, a meno che non sia un segnale di origine naturale, che quindi ha una durata infinita, ha un inizio e una fine. Per cui il segnale è limitato sia sull'asse dei tempi che sull'asse, quindi sia sull'ascisse che l'ordinate. E ogni valore... la cosa importante è che ogni valore di questo segnale porta informazioni e i valori sono infiniti. Cioè, se noi potessimo zoomare questo grafico e lo zoomassimo all'infinito, tra due punti ci sarebbe sempre un altro punto di questo segnale. Quindi noi potremmo... adesso, in questo caso, non è possibile per problemi informatici, ma se noi potessimo zoomare questo segnale all'infinito, ci sarebbero infiniti punti sull'asse dei tempi e infiniti punti sull'asse delle tensioni. Si dice che, diciamo, la forma d'onda è densa, cioè i punti che la caratterizzano sono infiniti. Quindi ognuno di questi punti è caratterizzato da un tempo t che potrebbe avere infinite virgole, cioè infiniti numeri dopo la virgola. Per esempio, se io prendo un punto qualsiasi... adesso non ci ho preso... se prendo un punto qualsiasi sul segnale, questo è caratterizzato da due valori. Un valore di tempo, chiamo per esempio t1, e un valore di tensione v1. E questi valori potrebbero avere tranquillamente infinite virgole. Per esempio, questo potrebbe essere 1,34271 eccetera eccetera eccetera. Il valore t1 pure potrebbe avere infinite virgole. Potrebbe essere 10 secondi virgola a questo volt, 3,2,4 eccetera, secondi. Quindi i valori portano tutte informazioni e sono infiniti. Vediamo che succede invece nel digitale. Vediamo che nel digitale i segnali possono assumere solo un numero limitato di valori in un certo intervallo. Quindi rimane il fatto dell'intervallo limitato che abbiamo visto prima. Però il numero di valori possibili è anch'esso limitato. Mentre qui i valori erano infiniti, vedete, con i numeri con infinite virgole, qui eh scusate, qui possiamo avere numero limitato di valori. Per esempio, in questa rappresentazione quanti valori possiamo avere? Abbiamo meno 2, poi abbiamo 0, poi abbiamo a 0 non c'è, comunque 2, 4, 1, meno 2. Cioè praticamente tutti questi numeri sono tutti numeri interi. Sono tutti interi. Di qua questo è un segnale digitale. Questo è un segnale digitale particolare, si chiama digitale binario, perché questi valori sono solamente 2. Cioè 0 e 1. I valori possibili sono solamente 2. Quindi il segnale digitale è un segnale i cui valori possibili, sia sull'asse dei tempi che sull'asse delle tensioni, sono limitati. Sono, scusate, sì, un numero limitato. Sull'asse dei tempi vedete che anche qui le possibilità sono limitate. Perché non possiamo, questi pallini che portano per noi l'informazione, sono disposti esattamente in tempi precisi. Cioè la nostra informazione non è portata da tutta l'onda, ma è portata da momenti precisi di quest'onda. Diciamo che sono esattamente dei punti di informazione, no? Quindi ognuno di questi punti, come si vede, ha un preciso valore di v e un preciso valore di t. E le possibilità non sono infinite, perché i tempi viaggiano, vedete, con una certa cadenza, che si chiama periodo, poi vedremo. Quindi i tempi non possono essere qualsiasi, come erano qui, t uguale con infinite virgole. E così come le tensioni non possono essere qualsiasi, ma assumono solo un numero limitato. Nel segnale digitale e binario questo numero addirittura 2, per cui è un numero limitatissimo. Perché ci piacciono? Ah, prima di tutto questo ci fa capire il perché del nome digitale, da digit che significa cifra. Perché significa cifra? Perché essendo limitati noi queste cifre, come le ho fatto io qua, le possiamo scrivere. Perché vedete, abbiamo dei punti precisi in cui c'è l'informazione e dei punti, e in questi punti il segnale vale un valore molto preciso, cioè una cifra molto precisa. Anche qui è la stessa cosa. Provate a scrivere le cifre su questo segnale, dovreste scrivere infinite cifre, quindi è totalmente impossibile. Al contrario questi si chiamano analogici perché sono analoghi, la loro forma d'onda assomiglia a quella delle grandezze fisiche a cui si riferiscono. Per esempio questa potrebbe essere un'onda sonora emessa dalla voce che poi è stata trasformata in un'onda di tensione. Allora, vediamo un attimo i segnali digitali binari. Perché sono così importanti? Sono così importanti perché voi dovreste sapere che i processori lavorano in logica binaria. Quindi i nostri processori dei PC sono molto affini a questi segnali binari perché parlano la stessa lingua. In particolare i valori sono due. Il valore bisogna distinguere tra valore logico e valore fisico. Allora, il valore logico indica sostanzialmente la differenza tra il basso e l'alto, cioè la differenza tra i due stati possibili del segnale. È un po' come dire, se noi lanciamo una monetina può avvenire o testa o croce. Noi, diciamo, nel mondo elettronico si chiamano 0 e 1. Potevamo chiamarli testa e croce ma hanno preferito chiamarli 0 e 1. E a questo valore logico si associa un valore fisico perché noi poi fisicamente questi segnali, come c'è scritto qui, vanno realizzati. E vedete nel punto in cui vale 1 il segnale, in realtà in questo caso vale 5V. Quindi c'è una corrispondenza tra il valore logico e il valore poi fisico che troviamo nel circuito. Per cui il valore fisico è un valore alto I che di solito nei circuiti che noi realizziamo equivale a 5V. Ma non è detto che sia 5V. Per esempio nei circuiti dei processori attuali è molto di meno, sta intorno di 1V. L'importante è mettersi d'accordo, no? Perché se noi sappiamo che 5V è alto e 0V è basso, non ci sbagliamo e ci capiamo. Quindi l'importante è capire che il valore 1 è comunque una tensione generalmente elevata e il valore 0 è una tensione generalmente bassa, cioè 0V. Il valore 1 di solito indica un segnale di attivazione, cioè un ON, e lo 0 indica un segnale di disattivazione. Però, attenzione, non è sempre così. Perché questo che vi ho detto è la logica diretta, o logica chiamata attiva alta, in cui l'1 attiva e lo 0 disattiva. Però esiste anche una logica inversa, in cui invece, cioè attiva bassa, in cui lo 0 è attiva e l'1 disattiva, quindi al contrario. Basta, appunto, che la logica sia chiara e non ci sono dubbi. Vediamo un attimo perché il digitale è così importante e anche così diffuso. Il digitale è importante e più vantaggioso dell'analogico per una serie di ragioni. Per esempio, la prima ragione per la quale il digitale è vantaggioso è che, essendo binario, può essere caricato e elaborato dai processori, quindi PC, telefoni. E al tempo stesso, se è elaborato, può essere anche trasmesso. Quindi, è chiaro che questo è un grandissimo vantaggio, perché se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con, per esempio, le videocassette VHS o le audiocassette, o anche i CD, cioè, scusate, i vinili, cioè tutti i supporti che elaborano, cioè che memorizzano informazione analogica, hanno una grandissima difficoltà di gestione, perché non li possiamo, non potete inviare il contenuto di una videocassetta tramite internet. Bisogna prima trasformarla in digitale e poi inviarla. Quindi, il fatto che il segnale sia digitale, binario, è un grande aiuto per la possibilità di comunicazione e di elaborazione. Poi, un segnale digitale è maggiormente immune ai disturbi, quindi si può copiare, trasmettere e elaborare senza perdere di qualità. Allora, qui vi ho fatto un esempio. Cioè, un segnale analogico, che parte bello e pulito dalla sua, diciamo, dal punto in cui viene inviato, e un segnale digitale che, anch'esso, parte bello pulito nel punto in cui viene generato. Poi, entrambi i segnali vengono trasferiti attraverso questa linea di trasmissione e arrivano al destinatario. Chiaramente, la linea di trasmissione è soggetta a tutta una serie di problemi. Possono arrivare dei fulmini, quindi dei rumori elettromagnetici che si sovrappongono al segnale, oppure altri disturbi dovuti a altre telecomunicazioni. Oppure, possono succedere eventi di ogni tipo, diciamo, la linea di trasmissione è soggetta, comunque, a rumore. E anche se non avvengono fenomeni particolarmente gravi, comunque c'è l'attenuazione. Quindi, durante la linea, il segnale diventa sicuramente più attenuato. Quello che succede, quello che arriva al ricevente, che cos'è? È qualcosa che potrebbe essere tipo questo, se tutto, anzi, qui è andato anche abbastanza bene tutto sommato. Vedete che lo stesso segnale, il segnale originario era all'incirca così, no? Questo segnale, che cosa gli è successo? Si è sovrapposto un rumore che ha fatto cambiare la forma d'onda del segnale. Vediamo che cosa è successo al digitale. Anche al digitale si è sovrapposto del rumore. Perché non è che il digitale, quando lo mandiamo, non prende rumore. Qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Beh, la differenza è in dove, cioè, qual è l'informazione che portiamo. Allora, nel segnale analogico, l'informazione è contenuta in ogni istante e in ogni valore di questo segnale. Quindi noi, quando lo andiamo a... Per esempio, immaginiamo che questo sia un segnale audio. Se noi andiamo a sentire questo segnale audio, che cosa succede? Sentiremo, non sentiremo una canzone perfettamente come è stata inviata. Come questa qui. Sentiremo delle distorsioni, perché chiaramente la forma d'onda non è più la stessa. Andiamo nel digitale. Nel digitale l'informazione non è contenuta in tutta la forma d'onda. È contenuta solamente in alcuni punti, che sono questi. E non solo è contenuta in alcuni punti, ma i valori possibili sono solo due. Per cui, che succede? Che se questi valori... Per esempio, prendiamo questi due valori. Se questi due valori continuano ad essere all'incirca sopra la metà, per me il segnale d'uscita è sempre alto. Quindi, per me il valore... Io non ho difficoltà a individuare che questi due valori sono uno. Anche, diciamo, l'unica possibilità, per sbagliarmi, è... Per esempio, questo è arrivato vicino all'errore, ma ancora è buono. Cioè, l'unica possibilità è che il rumore sia così forte, lo faccio un esempio qua, che praticamente non riesce... Cioè, il punto in cui il segnale viene letto, praticamente, va dall'altra parte della metà. Quindi, in questo caso, per esempio, se il rumore era così forte e da appiattire così tanto il segnale qui, noi non avremmo più letto 1, ma qui avremmo letto 0, e questo sarebbe stato l'unico errore della comunicazione. Quindi, capite bene che gli errori, prima di tutto il segnale digitale è più immune a questi errori, perché ci vuole un'ampiezza di rumore di 2,5 volte all'incirca. Adesso, purtroppo questa penna scrive un po' male. 2,5 volte all'incirca per generare un errore. Qui, quanti volte ci voglio per generare un errore? E basta una quantità di volt praticamente piccolissima per generare un errore, perché qualsiasi punto di questa curva è porta dell'informazione. E questo è un esempio che possiamo vedere anche nella vita reale. Infatti noi possiamo copiare un file digitale quante volte vogliamo senza rischiare di perdere i dati. Mentre se facciamo una fotocopia, che è un processo analogico, fotocopia di fotocopia decine di volte, alla fine non si legge più nulla, perché noi stiamo ogni volta aggiungendo degli errori e alla fine, diciamo, otterremo qualcosa di assolutamente incomprensibile. L'ultimo vantaggio è che il digitale può essere maggiormente compresso e quindi occupa meno spazio nelle memorie e quindi contemporaneamente si possono inviare più messaggi, più dati nella stessa linea di trasmissione. Allora, questo per capirlo dobbiamo addentrarci maggiormente nel mondo del digitale, però potete, diciamo, intuirlo. Considerando che nell'analogico tutti i valori portano informazione, quindi sono tutti importanti. Non ne possiamo scartare neanche uno. Nel digitale i valori che portano informazione sono solo questi pallini. Quindi, in qualche modo, noi potremmo pensare di compattarli. Cioè, invece che lasciare tutto questo spazio tra un pallino e l'altro, diciamo, questo spazio orizzontale tra un pallino e l'altro, io potrei anche compattarli e quindi potrei riuscire a inviare una quantità di messaggi e di dati superiore. E questo è testimoniato, per esempio, dal fatto che la tv analogica aveva solamente una decina di canali, mentre il digitale terrestre, che è appunto digitale, ne ha centinaia. Quindi il rapporto è molto, molto elevato. Andiamo a vedere un altro tipo di classificazione. Cioè, noi possiamo classificare i segnali, se noi guardiamo la forma d'onda, in analogici o digitali, ma possiamo anche classificarli in periodici e aperiodici e poi c'è anche una terza possibilità, che sono i quasi periodici. Comunque tendenzialmente in periodici e aperiodici. Qui non stiamo facendo una differenza tra segnale analogico-digitale. Cioè, potremmo avere dei segnali analogici periodici o segnali analogici aperiodici, o segnali digitali periodici e segnali digitali periodici. Questa è un'altra classificazione. Allora, vediamo un attimo i segnali periodici. I segnali definiscono periodici quelli che hanno una forma d'onda che si ripete in modo t-identico dopo un certo intervallo di tempo chiamato periodo. E possono essere di vario tipo. Cioè, possono essere segnali periodici di tipo sinusoidale, come questo qui, questo sotto, oppure segnali periodici non sinusoidali, chiamati anche composti, che hanno una forma d'onda qualsiasi. L'importante per essere periodici è che la forma d'onda dopo un po' si ripeta. Cioè, se noi partiamo da qui, questo segnale va su, va giù e ritorna qui. Qui che cosa succede? Si ripete una fotocopia di quello di prima. Posso fare in verde. Qui va su, qui va giù e poi ritorna. Quindi quello rosso e quello verde sono esattamente due copie identiche del segnale, che però avvengono in periodi successivi. Stessa cosa possiamo vedere su quest'altro segnale. Cioè, una prima fase, cioè un primo periodo, fino a qui. Dopodiché, un secondo periodo, sperando che ci ho preso sulla dimensione, insomma, un po' grosso, il secondo periodo arriva fino a qui. Un segnale periodico, perché ci interessano questi segnali che si ripetono? Perché hanno delle caratteristiche molto importanti. Quindi, c'è un altro warning, fatto in verde, meglio il rosso, che io riporterò qui tutte le grandezze dei segnali in tensione. Però, chiaramente, se il segnale è in corrente I, a posto della V ci sarà la I. E quindi, al posto dei volt ci saranno gli ampere. Quindi questo è chiaro. Insomma, adesso, per semplificare, per evitare di incasinarci, ve li darò tutti con le V. Allora, alcune di queste grandezze non sono solamente del segnale periodico. Diciamo, alcune di queste si definiscono anche per i segnali aperiodici. Però fa comodo vederli nel segnale periodico. Allora, io prenderò come segnale periodico caratteristico una sinusoide. Anzi, per la verità, due sinusoidi. C'è una prima sinusoide con valore medio nullo. E una seconda sinusoide, invece, con valore medio non nullo. Vediamo poi che cosa significa. Qui vi ho indicato tutte le grandezze. Perché si prende una sinusoide? Beh, lo vedremo tra un po'. Diciamo che la sinusoide è una forma d'onda molto particolare, che ha tantissime proprietà, per cui è la più utilizzata per tanti utilizzi. Tra l'altro anche la, per esempio, la forma d'onda della tensione che c'è sulle nostre prese elettriche è all'incirca sinusoidale. Cioè, dovrebbe essere sinusoidale, poi è un po' distorta, però è mediamente sinusoidale. Allora, la prima grandezza che mi interessa far vedere è appunto il valore medio. Che cos'è? È proprio il valore medio del segnale. Cioè, quanto vale mediamente il segnale nel tempo? Allora, vi ho detto che nella prima sinusoide il valore medio è nullo. Infatti, se vedete, la parte positiva del segnale equivale alla parte negativa. Quindi, quando noi andiamo a fare il valore medio, questo valore medio risulta nullo. Ben diverso succede, invece, per il segnale a destra, perché vediamo che la parte positiva è maggiore rispetto alla parte negativa. Quindi, se facciamo il valore medio, vediamo che questo si colloca in un punto che non è zero, cioè si colloca qui nel mezzo. E quindi il valore medio sarà maggiore di zero, in questo caso. Come si calcola il valore medio? Voi, attualmente, è difficile da fare per segnali che siano anche sinusoidali, perché è necessario calcolare gli integrali, cosa che voi farete più avanti. per cui, attualmente, fatelo in via, come dire, grafica o comunque in via intuitiva, ecco. Il valore medio influenzerà altre caratteristiche. Il valore massimo, chiamato massimo di picco, quindi ovmax ovp è uguale, è il valore massimo del segnale. Quindi, vediamo che, ad esempio, qui il valore massimo del segnale è questo. Adesso è venuto male, ma è questo. Visto che il valore medio è zero, il valore massimo negativo sarà pari a meno valore massimo positivo. Ed è questo sotto. Vediamo nel segnale con valore medio non nullo. Il valore massimo è sempre il punto più alto dove arriva il segnale. Questo valore massimo poteva essere anche negativo, poteva essere sotto lo zero. Diciamo, è il punto massimo in assoluto dove arriva il segnale. Che cos'è, invece, l'ampiezza? Ve lo faccio insieme al valore massimo, che così si capisce meglio. L'ampiezza è la differenza tra il valore di picco e il valore medio. Quindi, tra il valore massimo e il valore medio. Quindi l'ampiezza, in questo caso, coincide col valore massimo. Visto. Perché se il valore medio è zero, chiaramente facendo Vmax viene un Vmed, questo viene uguale a Vmax, se il valore medio è zero. In questo caso, dove il valore medio non è zero, l'ampiezza è questa distanza, cioè la distanza tra il valore massimo e il medio. Allora, considerate il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi noi lavoreremo con segnali di questo tipo, cioè con valore medio nullo. Perché si può dimostrare, dopo lo vedremo, che i segnali invece con valore medio non nullo possono essere ricondotti come una somma di una costante, che è questa, più una sinusoide a valore medio nullo. Però è importante comunque saperlo. Quindi, in generale, nella maggior parte dei casi, sappiate che il valore di picco, questo qui, valore massimo, coincide con l'ampiezza, però non è detto. Dopodiché, ampiezza picco picco, che si indica con app o vpp, è la differenza tra il valore di picco superiore e quella di picco inferiore. Se il segnalo ha valore medio nullo, è pari al doppio dell'ampiezza positiva. Quindi, l'ampiezza picco picco, che cos'è? È questa distanza qui. Chiaramente, in questo caso, dove il valore medio nullo è pari a due volte, a due volte vmax. Quanto scrive male questa penna. Mentre, nel caso in cui il valore medio non sia nullo, non è più uguale a due volte vmax, è uguale a due volte a. Ok? Allora, andiamo avanti. Periodo. Il periodo è il tempo trascorso tra due ripetizioni del segnale, che si misura o in secondi o in sottopultipli. Andiamo a vedere chi è il periodo. È la distanza tra due ripetizioni. Quindi, possiamo prendere o la distanza intesa sulla cresta. Quindi, prendiamo la prima cresta e la seconda cresta e vediamo il tempo che intercorre tra la prima cresta e la seconda cresta. oppure, nessuno ci impedisce di prendere la distanza tra, invece, due attraversamenti dello zero, che però siano sempre andando dall'alto verso il basso. Cioè, quest'altro attraversamento qui è un semiperiodo, perché vedete che il segnale che cosa fa? Va giù, ritorna su e poi fa l'altra parte. Quindi, la ripetizione del segnale è tutto questo qui, tutto questo intervallo qui. È indifferente prendere o le creste o gli attraversamenti. Si misura, appunto, in secondi o sottomulti, quindi è un tempo. La frequenza, f minuscolo, è il numero di ripetizioni del segnale al secondo. Questo non si può vedere dal grafico. Nel grafico del tempo non si può vedere la frequenza. Quindi, però, ci indica praticamente quante volte il segnale si ripete in un secondo. E si misura in hertz. E un hertz è una ripetizione al secondo. Si può dimostrare che la frequenza è pari a 1 diviso il periodo. E quindi il periodo è uguale a 1 diviso la frequenza. Cioè, sono uno inversamente proporzionale all'altro. Questo è chiaro, no? Perché se questo periodo si allunga, significa che il segnale è più lento. Per cui farà meno ripetizioni al secondo. Se invece quello è breve, farà più ripetizioni. Poi c'è la lunghezza d'onda, lambda. La lunghezza d'onda assomiglia molto al periodo. La differenza è che qui abbiamo lo spazio. Quindi sull'ascisse, invece che per il tempo, abbiamo lo spazio. Quindi anche in questo caso la lunghezza d'onda si può misurare sia sulle due creste, ma anche sui due attraversamenti. L'importante è che sull'asse delle ascisse abbiamo lo spazio, perché la lunghezza d'onda si misura in metri. L'ho scritto da qualche parte, si misura in metri e sotto multipli. Come si trova la lunghezza d'onda? Ah, qui non fate caso ai pallini che stanno sulla figura, ma sono semplicemente problemi dell'immagine. Allora, è facile. Questa sembra una formula complicata. Lambda uguale a c per t. Ma se noi ci pensiamo, la lunghezza d'onda è una lunghezza. Quindi, se io vi faccio la domanda, quanto spazio percorrete se andate alla velocità di un metro al secondo per dieci secondi? Beh, voi mi dite, io vado a un metro al secondo per dieci secondi, faccio uno per dieci e ottengo dieci metri. Quindi, come tutte le cose, lo spazio è uguale alla velocità per il tempo intercorso. E, allora, questa è la stessa cosa, perché, però, questa volta la lunghezza d'onda è uno spazio che si chiama lambda, non si chiama L. C è una velocità, ma non si chiama V, perché nel mondo elettrico V sono le tensioni, per cui chiamare una V diventa molto pericoloso. Si chiama c, ed è la velocità, se si tratta di onde elettromagnetiche, la velocità della luce nel vuoto, perché le onde si trasmettono la velocità della luce. E t, che cos'è? È il nostro intervallo di tempo. Qual è l'intervallo di tempo? È il periodo, no? Perché noi stiamo dicendo che la lunghezza d'onda è la lunghezza di un periodo, per cui l'intervallo di tempo è quello del periodo. Se questa non fosse un'onda elettromagnetica, ma fosse un'onda acustica, ci sarebbe la velocità del suono, che è 340 metri al secondo nel vuoto, cioè nell'aria. Un'altra grandezza importante è la pulsazione. Allora, la pulsazione è una grandezza che assomiglia molto alla frequenza. Sono direttamente proporzionali, pulsazione e frequenza. È un po' complicata, diciamo, la pulsazione da capire, ma in realtà poi si capisce bene. La pulsazione rappresenta la velocità angolare dell'onda, che c'entra l'angolo. Perché voi... questa è anche la particolarità della sinusoide. La sinusoide si crea dalla proiezione lungo un asse piano, che è questo, del movimento circolare. Cioè, se voi vedete, se io partissi da qui, da questo punto, poi al tempo numero uno, arrivo qui. Quanto ci ho messo? Ci ho messo un certo tempo, quindi da qui io sono arrivato qui. Adesso lo faccio in verde, se non si vede. Sono arrivato qui. Poi arrivo al punto due. Quindi qui arrivo al punto due. Qui arrivo al punto tre. E così via. Cioè, se io faccio... percorro questo cerchio, che si chiama cerchio goniometrico, con una certa velocità, in pratica, e mi guardassi come se mi guardassi da un lato, cioè da questo lato mi guardo, io vedrei, in pratica, questo oggetto che mi disegna una sinusoide. È come se voi guardaste qualcuno che pedala, ma guardandolo da davanti. Quindi lui sta facendo un movimento circolare. Però da davanti voi vedete il pedale suo che si muove in alto e in basso, e si muove con questa forma, che è proprio una sinusoide. Quindi, ecco cosa c'entra la velocità angolare. La velocità angolare rappresenta la velocità con cui questo puntino gira nel cerchio goniometrico. Si misura in radianti al secondo, e quindi rappresenta il numero di radianti che vengono percorsi in un secondo nel movimento circolare. Oddio, i radianti! Che cosa sono i radianti? Se vi ricordate il radiante, se questo è il raggio, raggio R, se noi questo raggio lo spalmiamo sulla circonferenza, questo raggio si chiama radiante. Ok? E quanti radianti ci sono in tutta la circonferenza? Questo numeretto ve lo dovreste ricordare, perché in mezza circonferenza, come vedete, ci sono 3 radianti un po', cioè 3,14. In tutta la circonferenza ci sono 6 radianti un po', cioè 6,28 radianti. Questo 3,14, questo signore qui, chi è? È il nostro amico pi greco, mentre 6,28 è 2 pi greco. Quindi il radiante che cos'è? È la misura del raggio messa sulla circonferenza. E una semicirconferenza, che poi sarebbero anche 180 gradi, cioè pi greco, l'angolo di pi greco, è pari a 3,14 radianti. Questo ci fa capire qualcosa su come si calcola la pulsazione, che si calcola come omico uguale 2 pi greco f. Anche qui, per ricordarselo, pensate sempre a quello che sappiamo, no? Noi prima abbiamo detto che lo spazio è dato la velocità per il tempo. Quindi, se noi vogliamo la velocità, la velocità sarà data dallo spazio diviso il tempo. Allora, la velocità, se noi giriamo in senso orario, cioè in senso circolare, è una velocità angolare, cioè una velocità dell'angolo. Lo spazio che percorro qual è? Eh, io devo vedere quanto tempo ci metto a fare tutto il giro, quindi lo spazio angolare è di 2 pi greco. Adesso dovrei dividere per il tempo, ma ho moltiplicato per la frequenza. Perché? Beh, perché la frequenza è uguale a 1t. Quindi io o divido per il tempo o moltiplico per la frequenza. Infatti questa si può anche scrivere come 2 pi greco fratto t. E il delta t è appunto il periodo, oppure se non divido per il periodo devo moltiplicare per la frequenza. Andiamo avanti. Quindi la fase, scritto fi in minuscolo, è la distanza... Allora, innanzitutto per considerare una fase dobbiamo considerare 2 sinusoidi. O comunque... Allora, vediamo che cos'è questa fase. Allora, in realtà la fase è proprio la distanza tra due sinusoidi. Tra questi due sinusoidi, vedete, una parte quando il tempo vale 0, parte la prima sinusoide. Quando il tempo vale un valore che non sappiamo, per esempio un tempo asterisco, passa sullo 0 la seconda sinusoide. Ma perché questa distanza è angolare? Non può essere misurata in secondi? Sì, può essere anche misurata in secondi, perché, come vedete, qui abbiamo i secondi, quindi possiamo anche misurarli in secondi. Quindi, però è più, anche se sembra più difficile, è più facile misurarla invece in gradi. Perché? Perché se noi facciamo qui il cerchio goniometrico, possiamo pensare che la sinusoide blu sia generata da un segmento che al tempo 0 sta qui e poi inizia a ruotare. La sinusoide, quella arancione, non ce l'ho, uso il rosso, sia invece creata da una sinusoide che al tempo 0 sta qui. Vedete? E poi inizia a girare da qui. Si gira sempre in verso anti-orari. Quindi che cosa succede? Che questa sarà in anticipo, quella blu sarà in anticipo rispetto a quella rossa di un angolo. Questo è proprio l'angolo di fase. Quest'angolo qui è l'angolo, in effetti quest'angolo, se è minore di 0, significa che il segnale arancione è in ritardo. Cioè, i numeri si iniziano a contare gli angoli da qui e poi si va verso l'alto. Quindi questo è 0, questo sono pi greco mezzi. Quindi diciamo 90 gradi, questi sono 180 e così via. Quindi un angolo che va nel verso, invece, orario, è un angolo negativo. E in effetti questa fase, quando è in ritardo, quando la linea rossa, quindi la sinusoide gialla, è in ritardo, è una fase negativa. Questo sarà un argomento pure importante per alcuni, insomma, nello studio futuro. Passiamo all'ultima grandezza, mi rendo conto che sono tante e sono anche un po' magari all'inizio complicate, però sono tutte molto utili. Valore efficace, chiamato anche RMS, dall'inglese root mean square, poi vedremo perché. È l'ampiezza che dovrebbe avere un segnale costante per fornire mediamente la stessa potenza al carico. E questo immagino che vi lascio abbasiti. Allora, immaginiamo due casi. Caso numero uno, in cui abbiamo un circuito con un generatore di tensione sinusoidale, che quindi ci produce la tensione della linea azzurra qui, quella sinusoidale, attaccata a un resistore R di resistenza R qualsiasi. Dopodiché abbiamo invece un altro circuito con un generatore di tensione costante, questa rossa, collegato sempre a un resistore R uguale a prima. La domanda che ci poniamo è questa. Anzi, prima di porci la domanda, vi faccio notare una cosa. che siccome la potenza, vi ricordo che la potenza in generale è data da V per I. Ma se noi applichiamo la legge di Ohm, cioè se noi ci ricordiamo che la I è anche uguale alla V fratto R, e quindi al posto di qui ci mettiamo V fratto R, otteniamo una cosa molto interessante. Otteniamo cioè che la potenza è uguale a V quadro fratto R. E questo è molto importante e ce lo dobbiamo tenere sotto mano. Allora, vi dicevo, se la potenza è proporzionale a V quadro diviso R, no? Significa che in questo punto del segnale sinusoidale, cioè all'inizio, quanto vale la potenza? V vale 0. Quindi V al quadrato fa sempre 0, diviso R fa sempre 0. Quindi qui la potenza sarebbe 0. Poi questa salirebbe, 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 fino ad arrivare a un massimo. Qui quanto varrebbe? V varrebbe, cancello un attimo qui perché è venuto veramente male, arrivato a questo punto massimo la potenza varrebbe un valore massimo, cioè questo valore qui, Vmax, al quadrato diviso R. Bene, ma allora è un po' complicato sapere quanto vale la potenza in un circuito in cui c'è il generatore sinusoidale. Cioè un momento vale 0, un momento vale tanto, un altro momento qui torna a valere 0, poi diventa negativa, però attenzione che qui c'è un quadrato, quindi diventa sempre positiva, la potenza è sempre positiva. Qua torna a 0 e viceversa è così. Allora, ci si è chiesti una cosa, ma la potenza media, ma quant'è? Quindi se io voglio trovare la potenza media di questo circuito, quanto sarà? Beh, sarà un valore calcolabile, noi non lo possiamo calcolare perché voi non avete fatto gli integrali, però sarà una media di V4 diviso R questa potenza media. Però questo non è che ci aiuta tanto, perché appunto non lo possiamo neanche calcolare e soprattutto è un po' difficile da visualizzare. Cioè nel senso, questa potenza media ok, ma quant'è effettivamente questa tensione che mi genera quella potenza media? Pure la tensione va su e giù, quindi è un po' complicata da gestire. Quindi si sono inventati una cosa molto intelligente. Ma se io avessi questo generatore in corrente continua, quindi tensione sempre costante, mi chiedo, quando è che la potenza erogata da questo resistore equivale a quest'altra? Cioè io mi vorrei mettere in una condizione in cui la potenza che viene dissipata sul resistore è la stessa. Cioè dire che la potenza è la stessa significa dire che questo oggetto, questi due circuiti, stanno trasferendo la stessa quantità di energia, ok? Quindi sono equivalenti dal punto di vista energetico. Bene, la mia domanda è, esiste una tensione che mi dà la stessa energia sul carico? Cioè esiste una tensione che se io faccio V4 fratto R mi dà la stessa potenza media che avevo di sopra? La risposta è sì, ed è proprio il valore efficace della tensione. Questo è quello che ho scritto qui. Quindi, come si fa a trovare questo valore efficace? Allora, siccome PMED e PMED sono uguali, io che faccio? Prendo questo valore qui e lo ugualio a questo, ed è quello che ho fatto qua giù. Mi metto uno uguale all'altro. Sono uguali, no? Perché sono entrambi PMED. Poi la R si semplifica. Quindi mi rimane che V efficace al quadrato è pari alla media della tensione alternata al quadrato. Adesso, se faccio la radice quadrata da tutte e due le parti, ottengo finalmente il risultato. E questa è la tensione, il valore efficace della tensione. Cioè, si calcola come la tensione V al quadrato, poi si fa la media di questa tensione V al quadrato, si fa la radice quadrata e si ottiene. E questo valore è, se lo vediamo sul grafico, è questa linea qui. Vedete? Per una sinusoide, in pratica, se io alimentassi lo stesso circuito con questo generatore sinusoidale, oppure con questo generatore a tensione costante, otterrei lo stesso risultato energetico. Adesso si capisce anche perché in inglese si chiama RMS. Alla root in inglese significa radice, cioè la radice quadrata. Min significa media e square significa quadrato. In effetti vi dice proprio come si deve calcolare. Root, min, square. Root, min, square. Tutto questo, se il segnale vale per tutti i segnali, ma se il segnale è sinusoidale, si semplifica. Si semplifica il tutto e per segnali sinusoidali il valore efficace della tensione si calcola semplicemente come la tensione massima diviso radice di 2. Se fate i conti vedete che praticamente è lo 0,71 della tensione massima. E non a caso l'ho disegnato così. Cioè questa è la tensione massima. E il valore efficace della tensione è 0,7 di questa, quindi è il 70% della tensione massima. Questo lo possiamo vedere anche nella nostra vita quotidiana, perché in effetti la tensione che abbiamo alle nostre prese elettriche è 230 volt. E non è altro che il valore efficace dell'onda sinusoidale che ci viene inviata. Quindi quanto vale il valore di picco dell'onda sinusoidale che ci viene inviata sulle prese elettriche? Basta fare la formula inversa, quindi Vmax uguale a radice di 2 per V efficace, cioè 324 volt. Quindi se prendete quella che si ha la corrente sulle prese, quindi se mettete due dita dentro la presa, sappiate che a livello energetico è come se toccaste una tensione continua di 230 volt. Ma a livello di pericolosità non è la stessa cosa, perché questo picco di tensione qui voi ve lo beccate e questo sono 324 volt, per cui in realtà voi non state prendendo esattamente la 230, state prendendo la 324. Per non parlare del trifase che stiamo a 400 volt e quindi prendereste 1.4 per 400 volt, che quindi va a finire oltre 500. Abbiamo finito con le grandezze. Passiamo a un altro piccolo argomento che finirà subito, che però è importante. Visto tutti i parametri che abbiamo studiato, noi possiamo definire una generica sinusoide, cioè possiamo individuare l'equazione matematica di una sinusoide s di t. Quindi s di t che significa? Dove vedete una lettera e tra parentesi una grandezza, significa che questo segnale s è dipendente da t. Questa è una funzione, voi le funzioni ancora non le avete fatte, ma s di t significa che il segnale s dipende da t, che è il tempo. È un segnale che varia nel tempo. Quindi questo segnale sinusoidale qualsiasi è dato da questa relazione, da v media più la v di picco, cioè la v massima, per il seno di ωt, pulsazione. Questo è il tempo, questo è la fase, cioè con questa equazione io posso descrivere qualsiasi tipo di sinusoide che mi venga in mente, sia che abbia il valore medio nullo, e questo sarebbe zero, e sia che il valore medio invece diverso da zero. Argomento molto molto importante, scomposizione di un segnale periodico. Allora, le serie di Fourier, per farle bene, si fanno bene all'università, però noi possiamo arrivare a capirlo, perché è una cosa molto importante riuscire a capire almeno l'aspetto, diciamo, di concettuale. Allora, noi sappiamo che qualsiasi segnale periodico può essere scomposto in una serie di sinusoidi, per questo che le sinusoidi sono molto importanti. Praticamente si può dimostrare che qualsiasi segnale periodico può essere generato dalla sovrapposizione di molteplici sinusoidi a diversa frequenza. E' appunto lo sviluppo in serie di Fourier, cioè tutte queste sinusoidi si chiamano, la somma di queste si chiama sviluppo in serie di Fourier. Ciascuna sinusoide, non sono sinusoide a caso, perché ciascuna sinusoide ha frequenza, multipla della frequenza del segnale, e si chiama armonica. Guardiamo il nostro segnale che avevamo analizzato in alto. Questo è un segnale periodico, sicuramente, non sinusoidale, però vi posso dire che questo segnale non periodico è prodotto dalla somma di questa sinusoide, che ha una frequenza, una polsazione omega. A questa ci si somma un'altra sinusoide, che ha un'ampiezza di questo tipo, quindi l'ampiezza è inferiore a quella iniziale, e è a frequenza tre volte la frequenza, quindi tre volte la pulsazione di questa prima sinusoide. Questa prima sinusoide si chiama fondamentale. Tutte le altre si chiamano armoniche, la fondamentale è anche la prima armonica. Poi c'è la seconda armonica, che in questo caso non è stata indicata, perché non è detto che le armoniche ci siano tutte. Poi c'è la terza armonica, che è questa qui. La quarta non c'è, non è stata indicata. E poi c'è la quinta. Tutte armoniche. Poi c'è la sesta, poi c'è la settima, e così via. Cioè si può dimostrare che questo segnale qui è prodotto da tutte queste armoniche. Perché è importante questo? Beh, le implicazioni sono veramente tante. Sono veramente tante. Tra l'altro vi dirò una cosa, che a seconda di come è fatta, diciamo di come sono distribuite queste armoniche, di quanto sono alte, per esempio questa potrebbe essere anche stata più alta, questa potrebbe essere stata nulla, questa potrebbe essere stata ancora più alta, dico sì. In base a come sono fatte queste armoniche, queste determinano la forma dell'onda poi composta, quindi del segnale periodico composto. Se trasliamo queste conoscenze nel mondo audio, pensiamo che questi siano dei segnali audio, ci accorgiamo una cosa, che il modo in cui questi sinusoidi sono presenti, quindi l'ampiezza delle armoniche, ci determina il timbro dello strumento. Per esempio, prendiamo questi due segnali sinusoidali che hanno lo stesso periodo, perché vedete che il periodo T è questo e anche qui il periodo T è uguale. Se io queste le mandassi a una cassa audio e le suonassi, cosa cambierebbe tra le due? Allora, cambierebbe il timbro. Immaginiamo che questo sia un La, la nota La, fatta per esempio da un violino. Non è così, però immaginiamo che sia così. E questa sia la nota La, in realtà fatta da un diapason. Sapete cos'è il diapason? È quello strumento che serve per accordare quello fatto con due stecchette metalliche. Ma diciamo, adesso vi ho detto il diapason perché effettivamente il diapason fa un'onda di questo tipo. Però potrebbe anche essere un pianoforte. Immaginate che questo sia il violino e questo è un pianoforte. Quindi la differenza tra... la nota è la stessa, vedete, sempre un La. Per noi il periodo è lo stesso, la frequenza è la stessa. Cosa ci cambia? Ci cambia la composizione del segnale. Cioè questo segnale ha questa forma ed è composto da tutte queste onde sovrapposte, mentre questo segnale qui è un segnale puro sinusoidale. quindi questo è molto molto importante perché, per esempio, adesso con tutti questi sistemi anche Google o Amazon che fanno la sintesi vocale, quindi che parlano, tutti questi studi derivano dalle analisi di questo tipo. Cioè se io voglio simulare una voce, la mia voce per esempio, io devo riuscire a trovare tutte le armoniche giuste, e bilanciate bene per simulare il timbro della mia voce. Quindi per simulare, per esempio, anche le tastiere elettroniche, per simulare il suono del pianoforte, hanno studiato proprio tutte le armoniche presenti su un suono di pianoforte. Andiamo avanti. Questo poi lo vedremo nel mondo della frequenza. Vi anticipo che vedete quanto è importante la frequenza. in questo caso la pulsazione, ma la stessa cosa. Perché è la pulsazione che mi determina in qualche modo il timbro, e questo ce lo dovremmo ricordare. Per esempio, un segnale ad onda quadra, che è questo segnale rettangolare, è anch'esso generato, per esempio, da tutte queste sinusoidi. quindi un qualsiasi segnale, anche un segnale digitale, alla fine può essere generato e composto da un numero infinito di sinusoidi, che sono queste che si vedono. E questa è una legge universale di tutti i segnali periodici. Se lo vogliamo vedere a livello matematico, questo si traduce in questa formulona, che non è poi così complicata, perché è la formula che abbiamo visto sopra del segnale generico. Quindi un segnale generico è dato dal valore medio più il valore di picco per il seno di ωt più φ. Se io ho un segnale generico composto, che cosa c'ho? Valore medio, valore di picco 1, cioè della fondamentale, quindi dell'armonica numero 1, per ωt. Poi valore di picco 2 della seconda armonica per 2 volte ωt, cioè frequenza doppia, pulsazione doppia. Poi ho vp3, quindi l'ampiezza della terza armonica, per 3 volte il seno, cioè seno di 3 volte ωt, e così via. Quindi matematicamente è una somma di tutte queste sinusoidi. Finiti i segnali periodici, ci sono quelli aperiodici. I segnali aperiodici hanno una forma d'onda che non si ripete mai. Quindi rispetto a quelli periodici sono più casuali, no? Perché un segnale periodico si deve ripetere, quello aperiodico può non ripetersi. Quindi può essere così, può essere così. Possiamo dire qualcosa dei segnali aperiodici riguardo alle stesse cose che abbiamo detto qui? Cioè un segnale aperiodico è generato anch'esso da una somma di sinusoidi? Allora, in realtà sì, però c'è una differenza. Possono essere generati dalla sovrapposizione di molteplici sinusoidi, ma le sinusoidi sono infinite e coprono tutte le possibili frequenze. Quindi sì, possiamo generare questi segnali strani, aperiodici, con delle sinusoidi, però non è la situazione così pulita e precisa come questa. Cioè non è un segnale che può essere generato con la somma di semplicemente, per esempio, quattro sinusoidi a frequenza multipla uno dell'altro, ma saranno generati da infinite sinusoidi a infinite frequenze. Quindi non solo i multipli, ma qui in mezzo ci saranno tante altre sinusoidi, adesso non è per niente una sinusoide, questo comunque tante altre sinusoide a tutte le frequenze. Infine i segnali quasi periodici sono i segnali che sono periodici, però per periodi limitati di tempo. e sono i segnali un po' più realistici, per esempio la nostra voce, ma anche il suono di uno strumento, è un segnale periodico, se lo guardiamo per poco tempo, ma poi cambia, perché noi emettiamo la stessa frequenza per un po', poi dobbiamo cambiare lettera, quindi chiaramente dobbiamo cambiare anche la frequenza. E questo complica notevolmente la sintesi vocale, perché chiaramente ok, io ho scovato il mio timbro quando dico A e riesco a farlo benissimo, ma poi dopo A c'è B e magari poi ci sono altre lettere, per cui la difficoltà è proprio quella di rendere questi sintetizzatori dinamici, che quindi si adattano dinamicamente allo scorrere della voce e del tempo. lo spettro di questi segnali è una via di mezzo tra quelli periodici e aperiodici, cioè per periodi limitati effettivamente questi segnali quasi periodici sono come i periodici, quindi sono composti da una serie di armoniche, però dopo un po' queste armoniche si evolvono, quindi se noi guardiamo in un tempo lungo non si comportano come i periodici. Allora, fino ad ora abbiamo visto i segnali rappresentati nel dominio del tempo, cioè segnali che noi guardavamo nel mondo del tempo. Adesso vogliamo guardare gli stessi segnali nel dominio della frequenza. Non significa che stiamo vedendo segnali diversi, significa che stiamo guardando i segnali da un'ottica diversa. Per esempio, è un po' come guardare la realtà attraverso una telecamera oppure guardare una realtà attraverso una telecamera a raggi infrarossi, quelle che fanno vedere per esempio con la visione notturna, quelle che utilizzano i militari o si utilizzano per vedere adesso la febbre dei pazienti covid. Stiamo semplicemente guardando la realtà con occhi diversi. Questi occhi ci servono perché ci fanno risaltare delle particolari caratteristiche. Come la telecamera a raggi infrarossi ci fa risaltare la temperatura dei corpi noi nel dominio della frequenza facciamo risaltare delle proprietà particolari che altrimenti non riusciremo a vedere. I segnali nel dominio della frequenza si rappresentano sempre sul piano cartesiano però mettendo sulle ascisse la frequenza. Quindi non avremo più sulle ascisse il tempo ma la frequenza. E sulle ordinate ci mettiamo l'ampiezza del segnale oppure per esempio la potenza e la fase. Su questo discorso diciamo ci allungheremo moltissimo non è diciamo per capire i concetti non è fondamentale però sappiamo che lì c'è un'ampiezza ok? Mentre il grafico dei segnali nel tempo si chiama forma d'onda questo si chiama spettro che non è un fantasma ma si chiama spettro. Lo spettro permette di evidenziare da quali frequenze è composto il segnale quindi ci fa vedere una caratteristica diversa è come guardare il segnale con altri occhi e in pratica che cosa ci fa vedere del segnale? Immaginiamo che questo segnale sia un segnale audio perché così ci capiamo meglio ci fa determinare ci fa venire all'occhio due caratteristiche molto importanti la prima è l'altezza e il secondo è il timbro stiamo sempre parlando di un segnale audio l'altezza del segnale audio significa che il suono è acuto cioè in alta frequenza o grave bassa frequenza quindi un suono acuto è tipo un suono grave ok quindi questo ce lo fa vedere molto bene il dominio della frequenza perché chiaramente se la frequenza è alta il segnale è acuto se la frequenza è bassa il segnale è grave ma non solo questo ci fa vedere un'altra cosa molto importante cioè il timbro il timbro si ricollega a quello che abbiamo detto prima sulle armoniche perché noi possiamo vedere dare una sbirciata diciamo andare a a intrometterci nel mondo delle armoniche di quel segnale quindi possiamo anche determinarne il timbro questo è un segnale audio ma la stessa cosa possiamo fare per segnali che non siano audio cioè possiamo chiaramente l'altezza non sarà più legata all'altezza del suono ma sarà legata alla frequenza semplicemente del suono per esempio però per noi è importante la frequenza del segnale perché ad esempio la radio quando noi ci sintonizziamo su un canale radio sintonizziamo a una frequenza di un certo numero di megahertz se non becchiamo la frequenza giusta c'è un'interferenza magari prendiamo un'altra stazione radio quindi la frequenza è molto importante il timbro diciamo nel mondo non audio ci indica solamente come è fatto quel segnale quindi quale caratteristiche ha vediamo prima di tutto lo spettro dei segnali periodici quindi riprendiamo il nostro segnale periodico sinusoide nel dominio del tempo non fate caso a questi pallini sulla sinusoide è sempre un errore e vediamo come possiamo vedere lo stesso segnale sinusoidale da un altro punto di vista cioè nel dominio della frequenza in cui abbiamo la frequenza inerzia allora la cosa al diapason era questo quello che dicevo prima comunque la frequenza di un segnale sinusoidale se noi lo guardiamo nel mondo della frequenza questo ci appare come un unico picco un unico valore cioè è un grafico molto strano cioè che è zero ovunque e ha un picco diciamo abbastanza elevato molto evidente a una certa frequenza per esempio 400 Hz sappiate che questo è un segnale vero un segnale audio vero e a 400 Hz c'è il la la nota la e quindi esattamente la nota che noi volevamo fare qui quando parlavo del la il la del diapason è proprio una sinusoide a 400 Hz quindi se noi guardiamo il mondo degli Hz della frequenza questo ci compare solamente come una frequenza un picco a 400 questo già vi inizia a far capire che è molto facile intuire queste caratteristiche guardando lo spettro perché guardando la sinusoide a noi questa cosa non c'era balenata agli occhi che questa sinusoide era a 400 Hz era per noi una sinusoide come un'altra mentre da qui vediamo subito che in modo compatto che ha una sola frequenza è 400 Hz e quindi un segnale composto tipo quello del pianoforte che avevamo visto sopra o il violino scusate grazie allo sviluppo in serie di furie sappiamo che ogni segnale periodico è dato da sovrapposizioni di un certo numero di sinusoidi a frequenze multiple della frequenza di base quindi se noi vediamo un qualsiasi segnale nel dominio del tempo che è questo noi lo guardiamo come un'onda un'onda qualsiasi nel tempo l'importante è che sia periodica quindi io ho sbagliato quindi deve essere un segnale che si ripete dopo del tempo una specie di elettrocardiogramma questo segnale nel tempo a noi se noi lo guardassimo così diciamo come l'ho disegnato io lo guardiamo ma non riusciamo a capire da cosa è composto riusciamo a vedere che è periodico ma per noi ha delle caratteristiche poco intellegibili se noi lo guardiamo invece nel mondo della frequenza dal momento che questo è un segnale periodico sappiamo che è la composizione di un certo numero di sinusoidi quindi per esempio noi scopriamo che è la composizione di questa sinusoide e quindi ci verrà un picco alla frequenza di quella sinusoide poi ci sarà quest'altra sinusoide a frequenza magari doppia e ci sarà un altro picco e poi la terza sinusoide a frequenza tripla e quindi un altro picco quindi se noi grafichiamo il segnale non nel dominio del tempo ma nel dominio della frequenza ci rendiamo conto di tante caratteristiche che altrimenti ci passerebbero inosservate e soprattutto come è composto questo segnale come ho detto prima lo spettro di un segnale periodico è sempre discreto cioè è sempre composto da questi picchi isolati a frequenza multipla quindi questi picchi saranno equispaziati l'uno dall'altro vediamo un po' di segnali periodici come si presenta gli spettri reali questi sono spettri reali dei segnali periodici per esempio se abbiamo questo segnale di prima quello fatto che sembra una cresta sappiamo che è composto da tutte queste sinusoidi qui che vedete però vedete che disegnarle così è un vero casino mentre se noi disegniamo lo spettro tutto è più facile perché sappiamo che ha un certo numero di picchi questa è la sinusoide fondamentale che è questa quindi a frequenza di un kHz abbiamo la prima sinusoide che si chiama fondamentale poi abbiamo la prima la seconda armonica che non esiste vedete la seconda armonica non ce l'avevamo vista anche prima poi c'è la terza armonica che è questa qui quarta armonica non c'è poi abbiamo la quinta e la settima in pratica abbiamo fatto come se avessimo fatto una lastra di questo segnale perché siamo andati a vedere all'interno da cosa è composto siamo riusciti a scomporlo e c'è una cosa in più qui c'è uno strano picco a zero cioè a zero Hz c'è un picco zero Hz che cosa significa? questo è un segnale a zero Hz un segnale a zero Hz è un segnale continuo cioè un segnale cioè scusate continuo è un segnale costante questo è un segnale a zero Hz nel domino del tempo quindi tutte le volte che c'è un picco a zero c'è un campanello d'allarme cioè c'è una componente continua che si chiama del segnale cioè significa che il valore medio del segnale non è nullo e in effetti vediamo che si può vedere da qui che il segnale non parte da zero ma parte da 0,5 qui non abbiamo le ascisse però se noi facessimo la scissa vedremo che qui è 0,5 qui è 0 quindi questo segnale questo nostro segnale è un segnale che ha valore medio non nullo ci ricordiamo che cos'è il valore medio no? perché tutta la parte positiva che è questa è molto più grande della parte negativa che è solamente questa quindi sicuramente il valore medio non sarà nullo quando il valore medio non è nullo avremo una componente a frequenza 0 nello spettro bene onda quadra un'onda quadra che chiaramente questo è un segnale digitale no? perché ha due soli valori qual è lo spettro di un'onda quadra? beh non è graficamente troppo troppo diverso da quello di sopra ma c'è una differenza molto importante questo aveva un numero di sinusoidi finito ok? mentre quando noi vediamo dei segnali digitali che hanno queste transizioni molto molto brusche più la transizione è brusca più il numero di sinusoidi si allunga fino a diventare infinito quindi se questo è un segnale perfettamente a onda quadra rettangolare il numero di sinusoidi vedete continua all'infinito e quante armoniche abbiamo? ce ne abbiamo una marea perché qua siamo a circa 30 armoniche ma ce ne sarebbero tante altre quindi vedete che il segnale più questo segnale è rettangolare e ha degli spigoli vivi e più la banda del segnale è grande ok? la banda sarebbe lo spazio occupato dalle armoniche vedete questa banda va tra 0 e 7 kHz questa banda va tra 1 e 20 kHz perché non l'ho fatta arrivare all'infinito? perché in realtà la banda non considera le armoniche quando diventano troppo piccole cioè si considerano le armoniche diciamo fino a un certo livello quando scendono sotto un certo livello non vengono più considerate anche perché se no si andrebbe all'infinito però anche considerandole solo fino a un certo livello vediamo che questo segnale che era un segnale più dolce arriva da 0 a 7 kHz questo arriva fino a 20 fino a 20 MHz chiaramente partiva da 1 MHz la fondamentale è 1 MHz quindi c'ha 20 armoniche questa c'ha 7 armoniche se prendiamo un'onda quadra unipolare quindi che non va sotto lo 0 rimane a 0 quindi la differenza rispetto a quella sopra è che non va mai sotto lo 0 vediamo che più o meno stiamo allo stesso livello anzi un pochino peggio perché la banda va da 0 a 30 MHz quindi sono più di 30 armoniche diciamo importanti qui che succede? questo si chiama treno di impulsi cioè se stringiamo l'onda quadra e ne facciamo un'onda molto stretta praticamente degli impulsi cosa stiamo facendo? stiamo facendo un segnale ancora più se vogliamo spigoloso rispetto a questo quindi scendendo giù sto facendo dei segnali sempre più lontani dal mondo delle sinusoidi perché sono segnali sempre più impulsivi sempre più con transizioni violente più la transizione è violenta più praticamente vedete che la banda praticamente si allunga sostanzialmente all'infinito cioè se noi avessimo degli impulsi perfetti qui cioè degli impulsi che durano un tempo piccolissimo infinitamente piccolo la banda sarebbe infinita cioè il numero di armoniche che sono hanno un valore non trascurabile arriva fino all'infinito onda triangolare e onda dente di sega sono queste altre due vedete che queste assomigliano un pochino di più a una sinusoide no? per cui la banda si stringe vedete 5 MHz 15 MHz quindi 5 armoniche 15 armoniche questo concetto quindi che vi voglio lasciare è un concetto molto importante più il segnale è un segnale a transizioni brusche è un segnale che ha variazioni rapide e più occupa banda quindi allo stesso modo si può dire che più noi vogliamo compattare l'informazione quindi avere tanti picchi vicini e più abbiamo bisogno di ampliare la banda e questo è chiaramente un limite no? perché quando noi facciamo passare i segnali nelle linee di trasmissione queste hanno non hanno una banda infinita diciamo a un certo punto questa banda finisce poi c'è l'attenuazione quindi questo è effettivamente il limite che abbiamo sulle linee di trasmissione come ultima cosa vediamo qual è lo spettro invece dei segnali aperiodici noi avevamo detto che anche per i segnali aperiodici l'avevamo detto esattamente qua anche i segnali periodici erano generati dalla sovrapposizione di sinusoidi l'unica differenza è che questi sinusoidi erano infinite e copriano tutte le frequenze vediamo un po' proprio di vedere questa cosa nel mondo della frequenza questa cosa dovrebbe diventare molto visibile quindi esatto partiamo da un segnale il segnale aperiodico per eccellenza un impulso cioè nel tempo quindi prendiamo un segnale ancora più estremo rispetto a questo che era un treno di impulsi noi prendiamo un impulso strettissimo uno solo che cosa ci succede succede che lo spettro se noi andiamo a vedere lo spettro questo è un segnale continuo nel mondo delle frequenze che significa continuo nel mondo delle frequenze significa che in pratica contiene tutte le frequenze immaginate che qui è come se ci fossero tanti picchi infiniti uno vicino all'altro quindi è come se questo impulso singolo per crearlo dobbiamo unire infinite sinusoidi a tutte le possibili frequenze dello spettro ok quindi la banda è assolutamente infinita quindi più noi ci avviciniamo a segnali che assomigliano all'impulso qual è un segnale che può assomigliare all'impulso? per esempio nel mondo audio sempre così immaginate un'esplosione se voi avete un suono che è un'esplosione questa esplosione cosa genera? genera una pressione fortissima in un istante molto breve e in effetti se voi andaste a vedere andaste a registrare l'audio di quell'esplosione e vedeste come è fatto lo spettro vedete che è uno spettro che ha praticamente tutte le frequenze audio invece se vediamo per esempio un rumore rumore bianco perché si chiama rumore bianco è stato dato questo nome perché è un rumore è quel rumore di fondo praticamente quello che si sente ad esempio quando la radio non prende ci sono delle interferenze quello tipo così quello è il rumore bianco se lo vediamo nel dominio del tempo vediamo che questa onda è un'onda che è totalmente casuale che va su e giù in modo caotico se lo vediamo invece nel dominio della frequenza ci accorgiamo che il rumore bianco anch'esso ha uno spettro che è sostanzialmente costante quindi assomiglia molto allo spettro dell'impulso perché se ci pensate bene tutti questi picchi su e giù che fa il rumore bianco è come se fossero una infinità di impulsi alti e bassi diciamo fatti in modo diverso tra l'uno e l'altro e questi vanno a generare uno spettro anch'esso continuo con un'infinità di picchi il rumore rosa che cos'è? il rumore rosa è simile al rumore bianco ma è un rumore un po' più basso qualcosa tipo è un altro tipo di rumore insomma e questo spettro del rumore rosa vediamo che è sempre uno spettro continuo però va decrescendo cioè uno spettro in cui ci sono più sinusoidi a frequenza bassa quindi è più presente l'elemento basso piuttosto che l'elemento alto l'hanno chiamato così un altro esempio di rumore per esempio il rumore sulla rete elettrica se noi analizzassimo andassimo a vedere il segnale che ci arriva proprio sulle prese elettriche noteremo che c'è una sinusoide sicuramente a 50 hertz e vediamo se qui è individuabile a 50 hertz cioè probabilmente è stata eliminata la sinusoide qui allora diciamo che ci sarebbe sicuramente un grosso picco a 50 hertz no? perché sapete che la la nostra fornitura elettrica è una fornitura a 50 hertz quindi la frequenza della nostra sinusoide che sta sulle prese elettriche è 50 hertz quindi sicuramente ci sarebbe un picco a 50 hertz qui probabilmente è stato eliminato e vediamo che ci si sovrappone tutto un rumore un rumore molto quindi se noi andassimo a vedere qui io non l'ho disegnata però se noi disegnassimo la sinusoide che abbiamo che possiamo misurare sulla rete elettrica non sarà una sinusoide bella e precisa ma sarà qualcosa tipo così ok tutti questi in pratica che cos'è una sinusoide in cui è sovrapposto un rumore tipo questo quindi il risultato che cos'è è una sorta di vedete questo andamento non è costante ma è un andamento comunque abbastanza continuo e poi c'è il picco dovuto alla sinusoide a 50 Hz è venuto malissimo il picco ecco e allora con questo direi che abbiamo finito questa carrellata spero di essere stato sufficientemente chiaro e di non avervi annoiato oltremodo grazie dell'attenzione e buona continuazione grazie grazie